Vuoi vincere skin e pass battaglia o un qualsiasi regalo da partima su Fortnite? Molto semplice, basta iscriverti al canale attendo la campanella e le notifiche Lasciare un bel like e condividere il video a tutti i tuoi amici E infine mandarmi le richieste sul mio accanto dove faccio i regali In questo modo avrete le possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da partima su Fortnite Ovviamente più amici vuoi riscrivere e più possibilità di vincere avrai Non mancherà delle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin e pass battaglia o V-Bucks Inoltre ricordo che se vuoi puoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite Inizierai nel mio codice creatore da Cini E se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò risponderti e ripostarti Bene a tutti in questo nuovo video e ben su un nuovissimo aggiornamento è finalmente arrivato Infatti come avete ben potuto leggere dal titolo in questo video Andremo appunto a vedere nel dettaglio tutte quante le novità che porterà quest'oggi Il nuovissimo aggiornamento patch 16.30 qui all'interno di Fortnite Per ovviamente cominciare col video come al certo ricordo di lasciare un bel like Che risposta di attivare la campanella delle notifiche Così ci siamo aggiornati su questi tipi di video e le live roschino base a taglia Infine condividi questo video tutti e dove ci siamo affederà anche a loro Tutte quante queste novità che porterà quest'oggi Questo nuovissimo aggiornamento qui all'interno di Fortnite Quindi partiamo subito e come detto prima proprio quest'oggi Martedì 27 di aprile riceveremo un nuovissimo aggiornamento L'aggiornamento che arriverà sarà proprio il terzo di questa stagione E sarà la patch 16.30 Questo sarà il terzo aggiornamento di questa season E più o meno al termine mancherebbero ancora altri 2-3 aggiornamenti Comunque questi aggiornamenti poi che verranno inseriti Arriveranno nel mese di maggio Che sarà l'ultimo mese di questa season Che ricordo va a terminare l'8 di giugno Ma incominciamo subito a vedere tutte le novità che conosciamo al momento E che sappiamo che porterà questo nuovissimo aggiornamento Infatti le novità che porterà questo aggiornamento sono davvero molto molto importanti E forse questo potrebbe essere uno degli aggiornamenti più importanti di questa stagione Quindi partiamo subito Partiamo appunto parlando della primissima novità che porterà quest'oggi Questo nuovo aggiornamento che si hanno a faccio qui all'interno di Fortnite Infatti come ben sapete questo nuovissimo aggiornamento Però questo oggi porterà la nuovissima skin segreta di questo pass battaglia della stagione 6 Infatti potremo però sbruccare questa nuovissima skin segreta Che come ben sapete si tratta proprio della skin di Neymar Junior Skin di Neymar Junior che ci è stata anche spoilerata l'altro giorno tramite vari trailer da parte di Fortnite Ed è comunque una skin molto molto bella a parer mio Fatemi sapere voi cosa ne pensate E proprio quest'oggi dopo la patch probabilmente questo pomeriggio Saranno disponibili le nuovissime sfide di Neymar Junior Che andandola a completare potremo appunto sbloccare tutte quante le sue ricompense Cioè il suo giocattolo, la sua schermata di caricamento, il suo costume, dolce curativo, vari picconi, vari stili Spray, deltaplano e molto altro Quindi comunque questo pomeriggio potremo finalmente sbloccare questa skin Che vedete adesso a schermo Skin che avrà come già detto tantissimi altri stili aggiuntivi E anche uno stile primordiale E comunque si prospetta davvero una bella collaborazione Quindi quest'oggi finalmente inizierà questo nuovo evento tra Fortnite e Neymar Junior Ma senza perdere altro tempo Andiamo subito a vedere tutte quante le nuovissime sfide di Neymar Junior Che saranno disponibili questo pomeriggio Come già detto probabilmente le sfide saranno disponibili O appena la patch andrà a terminare Cioè questa mattina Oppure questo pomeriggio alle ore 16 Quindi cominciamo subito a leggere Dal team di Fortnite Neymar Junior è incontenibile A partire da questa settimana Il 27 di aprile Cioè quest'oggi Potrai affrontare i suoi incarichi del pass battaglia Quindi le sue sfide E sbloccare il suo costume E altri oggetti dal suo set esplosivo Completa gli incarichi di Neymar Junior E gli incarichi di realtà epica Per sbloccare e scatenare le sue forme primordiali Ma andiamo subito a vedere tutti quanti i nuovissimi Incarichi di Neymar Junior Che saranno disponibili a partire da quest'oggi Quindi tutti quanti gli incarichi di Neymar Junior Presente all'interno del pass battaglia della stagione 6 Saranno accessibili dal 27 di aprile Cioè quest'oggi Con la pubblicazione della patch 16.30 Cioè la nuovissima patch che arriverà oggi Ecco alcuni degli incarichi e degli oggetti Che potrai ottenere completandoli Infatti a schermo tendranno anche alcuni oggetti Che sbloccheremo Ma passiamo subito agli incarichi Infatti la primissima sfida che dovremo completare Ci chiederà proprio di parlare a un calciatore sull'isola Quindi completando questa missione Potremo sbloccare la nuovissima emote pallone da calcio E lo standardo di Neymar Junior Seconda missione dovremo appunto Completare 3 incarichi dei calciatori sull'isola E sbloccheremo la schermata di caricamento matadori In tema Neymar Junior Poi terza missione dovremo completare 5 incarichi dei calciatori sull'isola Andremo appunto a sbloccare il costume di Neymar Junior Poi dovremo carciare al volo Il giocattolo pallone da calcio come Neymar Junior Per 500 metri E sbloccheremo il nuovissimo dorso decorativo Trofeo Yoia Dovrebbe dirsi Gioia Poi altra sfida dovremo appunto Segnare un gol con il giocattolo pallone da calcio di Neymar Junior E sbloccheremo il piccone colpo del Jaguaro Poi altra sfida dovremo appunto Eliminare i traversari come Neymar Junior Completando questa missione Andremo a sbloccare la nuovissima Emot Show Emot Show che abbiamo proprio visto nel trailer di questa collaborazione con Neymar E che in pratica andandola ad eseguire Potremo trasformarci nei stili primordiali di Neymar Junior Comunque davvero delle sfide molto interessanti Che ricordo usciranno sul canale Questo pomeriggio comunque appena saranno disponibili Quindi mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella Per essere facilitati nel completamento di queste sfide Quindi comunque queste sfide non vi preoccupate Perché sicuramente non saranno molto molto complicate Poi appunto qua si fa scrivere che le ricompense di Neymar Junior Non si limitano ai suoi incarichi Completando un certo numero di incarichi epici della stagione 6 Potrai sbloccare altri elementi di questo set Inoltre sbloccare la versione esibizione del costume Neymar Junior E altri elementi basati sulla sua tipica tenuta in giallo, verde e blu Comunque vorremmo anche completare alcune sfide epiche Per andare a sbloccare altre sue ricompense Quindi comunque come già detto le ricompense le abbiamo già viste Sono proprio il nuovissimo spray, le moti con le motte, il lettaplano I vari stili di Neymar, il piccone e molto altro E comunque ricordo che saranno disponibili questo pomeriggio Quindi per a quando rimanete aggiornati sul canale come già detto prima Perché appena saranno disponibili queste sfide Ve le farò uscire e saranno appunto complicate Così per farvele completare e farvi appunto sbloccare tutto il nuovissimo set di Neymar Junior Quindi finalmente oggi è arrivato il giorno E inizierà il nuovissimo evento tra Fornet e Neymar E mi raccomando rimanete pronti Dopo aver visto appunto questa novità della nuova skin segreta di questo pass battaglia Che sarà disponibile a partire da quest'oggi Andiamo a vedere un'altra novità che sicuramente vedremo arrivare tramite questo nuovo aggiornamento La novità di cui vi voglio appunto parlare E' proprio dell'arrivo delle nuovissime sfide della Guia Infatti le ultime sfide della Guia saranno proprio disponibili a partire da quest'oggi E probabilmente visto sono le ultime sfide Andremo finalmente a sbloccare il nuovissimo stile di Ratz Maestro De Glifi Quindi quest'oggi dovrebbe essere il giorno giusto E finalmente andremo a sbloccare il nuovissimo stile di Ratz Lo stile secondario che tanto stiamo attendendo Quindi come già detto sicuramente quest'oggi usciranno queste missioni Saranno le ultime della Guia appena la patch sarà uscita E anche queste missioni le farò uscire sul canale Quindi come al solito rimanete aggiornati Per non perdervi alcuna missione E sbloccare questo nuovissimo stile di Ratz Quindi ricordo quest'oggi finalmente Avremo queste nuove sfide della Guia Quindi questo è tutto Fatemi sempre appunto qui sotto nei commenti Voi cosa ne pensate Se soprattutto andrete a sbloccare sia la nuovissima skin di Neymar quest'oggi Ma soprattutto se andrete a sbloccare il nuovissimo stile maestro De Glifi di Ratz Che sarà disponibile anche esso oggi Quindi spero che questo video vi sia piaciuto Ma soprattutto vi sia stato d'aiuto Se così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like In descrizione andate a una nuova campanella delle notifiche Così siamo aggiornati su questi tipi di video E nel live lo skin di base a taglia Infine condividi questo video Ci vediamo che vedremo anche a loro Tutte quante queste novità che porterà a quest'oggi Il nuovissimo aggiornamento patch 16.30 Qui all'interno di Fornet Noi ci vediamo un prossimo video Una prossima live Ciao